Lo sviluppo economico della regione Puglia, data la natura rurale di varie zone della nostra regione, non può prescindere dalla valorizzazione e dalla tutela dell'agricoltura. L'agricoltura come elemento essenziale dell'economia pugliese. Parliamone con il dottor Stefano Liuzzi, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto. Credo che sia una delle risposte più facili a dare a questa domanda. Fare l'opposto di quello che ha fatto finora Emiliano. Perché basta girare fra le aziende agricole del territorio e noi come Lega lo abbiamo fatto nei giorni scorsi per sentire tutta la rabbia, tutta la difficoltà degli agricoltori pugliesi in generale, ma Tarantini, parlo per il mio territorio. Che cosa fare? Innanzitutto basterebbe saper decidere. La Puglia ha perso la possibilità di sfruttare il PSR, quindi i fondi europei per l'agricoltura, perché non si è stati in grado di decidere le graduatorie. Non si sa perché. Forse perché non si vuole mai scondentare nessuno. Basta seguire le regole. E quindi sfruttare a pieno, permettere la fruizione, lo sfruttamento dei fondi europei, già sarebbe una grossissima risposta all'agricoltura pugliese. Altro problema serio è quello dell'axilella. Anche qui io sono un medico, sono abituato a ragionare in modo scientifico, a ragionare con le pubblicazioni scientifiche. Basterebbe seguire quello che dicono i scienziati che in Puglia ci sono. Non abbandonarsi, non seguire quello che a volte dicono i cosiddetti stregoni, santoni. Basta seguire la scienza. Se è necessario, io in medicina, per arginare un problema medico, a volte è necessario amputare qualcosa. Si deve fare. Se per arginare il problema dell'axilella era necessario abbattere alcune piante infette e poi valutare la possibilità di sostituirle con cultivar resistenti all'axilella, era necessario farlo. Stiamo rischiando di buttare a mare centinaia di anni di olivicoltura perché anche in questo caso non si ha il coraggio di scegliere. A volte le scelte drastiche sono quelle che danno i maggiori risultati. Altro problema, Taranto in particolare, il problema dell'itticoltura. Anche là bisogna avere un occhio attento. Il problema della cozza, delle cozze tarantine. Io quando ero consigliere provinciale, 20 anni fa, e passo, ricordo che abbiamo fatto tante attività per il rilancio della cozza tarantina. Non ne sto più vedendo, anzi noto, sento le difficoltà dei mitiricoltori tarantini perché lamentano innanzitutto la perdita della materia prima nel Mar Piccolo, ma poi anche il problema della concorrenza dei frutti di mare stranieri. Fondamentale, un rilancio della cozza tarantina, la ricerca di una indicazione geografica protetta e il tracciamento chiaro delle altre cozze che vengono vendute sul territorio perché è evidente che il mercato la farà padrona, però io voglio essere padrone di poter scegliere una cozza tarantina o che sia greca o che venga dal nord, ma almeno posso sapere cosa compro.